L'arresto di Matteo Messina Denaro, alleato del clan dei Corleonesi, segna la fine dell'ala più feroce e sanguinaria della mafia. Pietro Grasso, ex magistrato ed ex procuratore nazionale antimafia, racconta quella che si può definire la fine di un'epoca. Sì, effettivamente è l'ultimo stragista che viene arrestato. E mancava soltanto uno, ed era Matteo Messina Denaro. L'arresto di Messina Denaro è stato immediatamente seguito dalle perquisizioni delle sue abitazioni, un fatto non scontato quando nel 1993 fu arrestato il boss dei boss, Totò Riina, inspiegabilmente nessuno andò a verificare cosa ci fosse nella sua casa. Quello della mancata perquisizione del covo di Riina non l'ho mai spiegato e anche la spiegazione che ne danno le sentenze, cioè che si è trattato di un disguido non soddisfa certamente. Se fosse stato io alla procura di Palermo avrei richiesto giornalmente una relazione su quello che veniva osservato. La mia esperienza mi dice che il mafioso non tiene mai vicino caso dove sta delle cose compromettenti, ma le tiene in posti assolutamente diversi, magari lontani. I mafiosi d'altra parte hanno portato anche lavoro e ricchezza sul territorio e per questo non erano osteggiati, almeno da una parte della popolazione. Era considerato un benefattore, qualcuno sperava di poterlo incontrare, di poterli stare vicino, perché la mafia usa alle volte l'intimidazione e la paura, ma poi usa anche il coinvolgimento. Un'ultima domanda rimane dopo l'arresto. Chi prenderà il posto di Matteo Messina Denaro al vertice della mafia? Sarà sostituito, dopo il normale scombussolamento, sarà sostituito da un reggente che reggerà l'organizzazione a Trapani e poi si ricostituiranno naturalmente le file. Purtroppo ancora dobbiamo fare i conti con Cosa Nostra.